Ciao a tutti cari amici, ben trovati in un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Andiamo a fare una nuova canalizzazione del pensiero, come potete vedere è anche questa sera variante unica, quindi se siete stati attratti da questo video evidentemente c'è un messaggio per voi. Io vi ricordo che sono interattivi, quindi sono validi dal momento in cui vengono visti e che sono stesi generali, quindi cercate di ascoltarli con la mente aperta perché naturalmente le situazioni possono essere tante, voi siete tantissimi che guardate, vi ringrazio molto di questo, però cercate comunque di non forzare le cose perché non sono consulti privati. Per gli uomini che guardano basta che giriate la situazione, quindi pensate che dall'altra parte c'è una donna. Io parlo come se ovviamente mi riferissi a un uomo perché sono donna e la maggior parte delle persone che guardano il canale sono di sesso femminile, quindi diciamo vado meglio anch'io a canalizzare, però basta che girate la situazione. Allora andiamo un po' a vedere questa persona questa sera. Qui abbiamo un uomo che sta contemplando del denaro. È una persona che probabilmente potrebbe avere dei problemi economici, quindi ha un pensiero molto importante rispetto a questa sua vita materiale. È una persona che sta guardando e facendo i conti con ciò che ha accumulato finora nella vita. Per molti di voi qui potrebbe essere una persona che magari in passato ha avuto tanto, è stata benestante, ha avuto tanto non solo dal punto di vista economico, parliamo proprio di realizzazione in tutti gli ambiti che riguardano l'aspetto materiale della vita, quindi la famiglia, la costruzione della casa, il lavoro. È una persona che comunque ha il pensiero sull'aspetto economico, sta contando ciò che ha a disposizione, probabilmente qua c'è un problema economico da risolvere. Questa persona è seduta a guardare questo denaro, a contare questo denaro, però è contestualmente pronta a partire, a mettersi al lavoro, all'opera. È un uomo che qui probabilmente per molti di voi, se siete separati, per esempio sta cercando di fare, come posso dire, riequilibrare la situazione economica, perché sta avendo probabilmente delle difficoltà. È anche qui una persona che sta contemplando il passato in generale, ok? Però mi viene qua soprattutto per una questione economica, questa persona è concentrata molto sull'aspetto del denaro e anche sul lavoro. Qui abbiamo un uomo che sta cercando, o sta proprio cercando lavoro perché oggettivamente ha delle difficoltà economiche e quindi è molto pensieroso rispetto a questa situazione. Oppure è una persona che comunque sta cercando degli scamotage, cioè sta trovando il sistema per avere delle opportunità lavorative, per avere degli introiti. È una persona, il mercante, che potrebbe anche utilizzare dei sistemi poco leciti per ottenere quello che vuole. Per alcune di voi, qua se per esempio vi siete separati o avete avuto un allontanamento, questa persona potrebbe con questo mercante essere lì che contempla la situazione del passato, che gli manca, che vorrebbe, sente di aver perso come, no? Ha perso qualcosa di prezioso. Questa persona potrebbe voler venire da voi cercando appunto di negoziare per una nuova situazione che naturalmente è vantaggiosa per questa persona. Quindi il mercante mi parla di una persona che comunque cerca di convincere, cerca di, anche imbrogliando se vogliamo, di vendere, di vendersi. Abbiamo qui un uomo che si sente importante per voi, probabilmente si sente anche la persona giusta, o voi lo fate sentire importante. È un uomo che guarda il futuro, che ha un uomo con le spalle larghe, che è in grado di mantenere la famiglia, fa di tutto per mantenerla, fa di tutto per mostrarsi anche all'altezza delle situazioni e è una persona che se finora con voi si è dimostrata magari poco presente, questa persona comunque ha intenzione di impegnarsi, di andare verso comunque un futuro. Quindi abbiamo anche una persona molto gentile, molto educata, secondo quanto è uscito dalle carte. Certo è che è comunque impegnata a livello lavorativo, qui c'è molto pensiero. Cosa vede in voi? Vede senz'altro un appoggio. Qua esce l'amica, quindi potreste, se sapete appunto che avete una relazione di amicizia, quindi chiedete per un amico, qua c'è proprio il sentire l'amicizia con voi. Se chiedete di una persona con cui avete un rapporto sentimentale, questa persona vi vede con un appoggio sicuro, anche una confidente, ha una sensazione di tranquillità, di serenità, sa che si può confidare con voi, che può parlare con voi e sente una forte armonia e familiarità. State attente però perché se questa persona ha un comportamento, diciamo, un poco presente, senz'altro ha molti pensieri riguardanti al lavoro, però fate attenzione perché qui potrebbe veramente vedervi come un'amica. Quindi cercate un attimo di cucire in base alla vostra situazione. Qua è una persona che probabilmente si confida con voi, pensa che siate in grado di dargli molti consigli, è una persona comunque che vi ritiene importanti nella sua vita. Qui probabilmente c'è un allontanamento tra di voi, sicuramente riguardante il lavoro, riguardante appunto l'aspetto finanziario che questa persona deve in qualche modo sistemare e comunque è in ansia, è in attesa per qualcosa, potrebbe essere in attesa di vedere voi, ma per alcuni se questa persona si occupa per esempio di commercio o sta aspettando, diciamo, qualcun altro per avere dei contratti, per firmare dei contratti, per avere un vantaggio economico, questa persona è in ansia, sta aspettando qualcosa che arrivi. È in tormento e ha delle speranze anche se siete distanti voi di potervi rivedere al più presto e un po' è anche in una situazione di sottomissione rispetto a questa condizione. C'è una calma apparente, c'è una tranquillità, però questa persona diciamo che è in uno stato un po', cioè è costretto ad aspettarvi, non è che lo vuole di proposito, cioè è costretto a comunque far passare del tempo. È una persona che vuole un incontro intimo con voi, se siete, diciamo, di famiglia, questa persona vuole comunque incontrarvi nella sua casa o nella vostra in una condizione di tranquillità, di serenità, di intimità, quindi in una stanza magari che avete in casa nella quale andate spesso. Per alcuni di voi potrebbe riguardare proprio l'aspetto sessuale, quindi se avete rapporti intimi con questa persona, anche se non siete insieme, anche se siete solo amici, eccetera, questa persona comunque desidera e attende, brama, ha un'ansia, sta aspettando questo incontro anche per parlare, ma la stanza mi indica proprio anche i rapporti sessuali. Quindi qui c'è sia l'intimità proprio di confidenza, di poter parlare di cose che con gli altri non si parla, non si parla con tutti, insomma, ma anche proprio a livello, diciamo, sessuale. È una persona che vuole dedicare del tempo a voi, vuole passare del tempo insieme, magari anche a cena o comunque dialogando in modo profondo. Ecco, va bene, io vi ringrazio tantissimo, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, inoltre sotto nella descrizione trovate la mail se volete contattarmi privatamente. Io vi do un abbraccio grandissimo e vi aspetto con i prossimi interattivi.